City Report Cari amici, City Report, questa è l'anticipazione della puntata che vedrete sabato dove siamo? In un posto dove è vietatissimo l'accesso agli estranei è un'area ferroviaria di RFI, c'è anche una multa da 10 a 30 euro che chiaramente faremo pagare a Paolo e ad Ermes perché io non c'entro niente, sono solo City Report, gli ho trapasso seguiteci, guardatela perché è molto interessante e siamo nella città metropolitana un saluto a tutti, andiamo avanti